Buongiorno, benvenuti dalla zuppa di porro di oggi, 28 settembre. Mi scuso molto, ieri non sono riuscito a fare questa diretta, è stata una giornata complicatissima. Oggi tutto quello, e tra l'altro ieri mi sono dimenticato di ringraziare il mio amico Marcello Foa, che è diventato finalmente presidente della RAI, un grande in bocca al lupo a Marcello, che in un'intervista al Corriere della Sera, tra le altre cose, ha detto che Virus, il programma che facevamo con tanti amici a RAI2, un'idea di Teodori, di Rizzelli, di Gabriello Berti, di Alberto Puoti e di tanti altri che sono invece tornati con me a Mediaset. Insomma, questo programma dell'epoca era considerato dall'attuale presidente della RAI come un programma indipendente. All'epoca parlavamo delle cose di cui oggi parlano tutti quanti, e quindi il riconoscimento che ha fatto a me e a quella squadra, secondo me, è straordinaria. E gli sono molto grato. Andiamo invece sulle questioni di giornata. Sulle questioni di giornata, va bene, il concetto è molto semplice. Come titolo del messaggero, deficit al 2,4%, TRIA accetta. Io direi che forse è il giornale più sobrio oggi sulla questione. Gli altri giornali, deficit più alto per tre anni, è altrettanto significativo e fattuale, il titolo del Corriere della Sera e il giornale e Repubblica interpretano un po' di più perché dicono TRIA si arrende. E il fatto quotidiano TRIA ingoia il deficit. Su tutti i giornali di oggi, di fatto, ci sono le prime due o tre pagine di retroscena, cioè sul fatto che TRIA abbia accettato, prima di ottenere un deficit più alto di 0,8%, perché lui voleva rimanere all'1,6% o massimo all'1,9%, e quindi sarà lui stesso che dovrà difendere in Europa una scelta che lui stesso non condivideva. Dall'altra, come ricorda Breda, ma non solo, tanti altri oggi sui giornali, c'è stata una pressione da parte di Mattarella, del Presidente della Repubblica, affinché TRIA, una volta accettato questo diktat da parte di Salvini e di Di Maio, non si dimettesse. Quindi il secondo retroscena è che TRIA ha accettato di non dimettersi per servire la nazione, nonostante lui non condividesse questo. Il Prosecco ha finito, a me il reti di cittadinanza preoccupa molto, adesso entriamo nel merito. Questo 2,4% è una cosa che a me mi fa infuriare, oggi i giornali ne parlano relativamente, perché oggi è stato semplicemente approvato il numeretto, nelle prossime ore verrà dato il contenuto a quel numeretto. Insomma, questo 2,4% vuol dire una decina di miliardi in più che saranno spesi in deficit, quindi noi aumentiamo il debito italiano, lo aumentiamo di molto e per cosa lo aumentiamo questo debito italiano? Perché tutti fanno la critica dicendo che si doveva rispettare l'1,6, è diventata una specie di mantra l'1,6, se non rispettavi l'1,6 eri un cornuto. Il punto vero è che tutti i commentatori, che secondo me oggi non colgono, se non in una certa misura qualche analisi diciamo un po' diversa del sole 24 ore, è che il punto fondamentale non è tanto che è stato aumentato il deficit al 2,6%, al 2,4%, al 100%, ma che è stato aumentato per il reddito di cittadinanza, che è stato aumentato per le pensioni sociali, che non sono pensioni sociali, si chiamano pensioni di cittadinanza, di 780 euro, quindi voi che siete degli artigiani, dei commercianti o dei professionisti che avete lavorato nella vostra vita in maniera discontinua, avete pagato i vostri contributi e oggi avete una pensione di 600-650 euro, che è una pensione bassa ma superiore alle minime, verrete, come possiamo dire, affiancati da persone che non hanno mai fatto un cavolo nella loro vita, che magari hanno lavorato in nero, magari hanno preso la cig in nero, magari anche sono dei poveracci e che prenderanno 150 euro, 200 euro più della pensione che voi avete fatto pagando i contributi e tra l'altro pagando le tasse con le quali noi pagheremo questo reddito di cittadinanza e questa pensione di cittadinanza. Io la trovo una cosa incredibile, è del tutto evidente che su questa vicenda, cioè dell'aumento del deficit a godere è più di maio di Salvini, perché Salvini non si porta a casa praticamente nulla, ci spiega che nel giro, per quello tutti i giornali dicono che il deficit è aumentato per i prossimi tre anni, perché si spera che nei prossimi anni si ridurranno le aliquote IRES e IRPEF, cioè le aliquote nostre delle persone fisiche, a due aliquote, dice oggi mi sembra il Corriere della Sera, una al 15, una al 25 e l'altra al 33%, una cosa di questo tipo. Però il punto fondamentale è che noi abbiamo aumentato il deficit per finanziare l'assistenzialismo di Stato, una cosa da pazzi, da pazzi legati e i nostri giornali di che cosa parlano? All'Europa non accetterà il deficit, l'Europa di qua, l'Europa di là, all'Europa noi ce ne fotte nulla, noi ci dovrebbe fottere che abbiamo aumentato un deficit per buttare nel cesso questi soldi. Oggi mi sembra che sia sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno la straordinaria storia di un signore che è stato licenziato perché giocava a pallone e poi è stato reintegrato dai nostri magistrati perché non so per quale reggio decreto si sono appellati. Allora in un mondo in cui un disoccupato, un occupato gioca a pallone, viene licenziato dall'azienda e poi dopo viene reintegrato dai giudici, voi vi fidate del controllo serrato che faremo su questo reddito di cittadinanza che andrà soltanto a coloro che rifiuteranno tre mestieri, come se il Reggio Calabria, i centri dell'impiego ti fornissero tre mestieri nel giro di tre anni e per di più devono essere a 50 km di distanza da casa tua e per di più secondo il programma dei 5 Stelle devono essere coerenti ai tuoi interessi, è una roba che mi viene veramente da spaccare questo telefonino per quanto sono furibondo per questa stupidaggine. Ma vado avanti, in questa Italia folle i giornali oggi si occupano, pagine, pagine intere, oggi c'è il fondo di travaglio sulla questione che è stato nominato vicepresidente del CSM Legnini, Legnini era responsabile di giustizia del PD, scusatemi, Ermini, come faccio a dire Legnini era il presidente, l'ex responsabile del PD della giustizia parlamentare, i voti con i quali è stato eletto sono 13, la cosa singolare è che praticamente è stato eletto dai magistrati, i magistrati, i magistraturi dipendenti, Unicost, secondo le correnti diciamo meno di sinistra della magistratura hanno eletto questo Renzianissimo, urla strepita il fatto quotidiano e dice il consiglio supino della magistratura, tutto questo perché hanno eletto un vicepresidente, espressione della politica del PD. Scusatemi, ma chi era il passato vicepresidente? Era uno del PD, chi era quello passato? Era un altro politico, i vicepresidenti sono sempre eletti dalla politica, in questo caso tra l'altro è stato eletto dalla politica con i voti determinanti dei magistrati, cioè gli stessi magistrati del CSM hanno votato questo politico e sapete perché? Perché volevano, non volevano assolutamente il candidato del Movimento 5 Stelle che loro consideravano assurdamente fuori da qualsiasi imparzialità, quella secondo Mizzolini che oggi scrive un pezzo fantastico sul giornale, ma non solo Mizzolini, tanti altri mi sembra Bordin sul fatto, dicono ma ragazzi di che state parlando? Quando dite che si è politicizzato il CSM quando al contrario è stato eletto sì un politico ma dai magistrati, io del CSM in quelle mani non ci vogliono mettere niente, ma quando io sento dire che per questo motivo è politicizzata la magistratura e oggi leggo, zurlo sul giornale ma leggo anche l'Italia oggi in cui mi spiegano che la Corte Costituzionale, sapete che cosa ha fatto nel silenzio complessivo? Peggio del decreto dignità, peggio della legge finanziaria, peggio del reddito di cittadinanza, cioè il Jobs Act cosa prevedeva? Che i licenziamenti illegittimi potessero avere un pagamento da parte del datore di lavoro nei confronti del licenziato tra 6 e 36 mensilità, 36 mensilità sono tantissime, stiamo aumentando di licenziamenti illegittimi. I magistrati che cosa dicono? Un tempo secondo il Jobs Act tu pagavi questa indennità, questo risarcimento al lavoratore in funzione della sua aziendale, se io licenzio uno che sta da me dopo 5 mesi non gli do 36 mesi di stipendio, gliene darò 5, 6, 6 anzi era il minimo. Bene, cosa decide la Corte Costituzionale? I nostri giudici che è troppo sbagliato il Jobs Act per la discrezionalità arbitraria di fare tra 6 e 36 e quindi si deve togliere al legislatore questa discrezionalità e agli imprenditori della discrezionalità per darla, che non è discrezionalità, è semplicemente tra 6 e 36 mesi e far decidere ai magistrati del lavoro quanto deve essere l'indennità. Cosa vuol dire tutto questo? Rendere e giudiziarizzare di nuovo tutte le cause di lavoro. Primo faccio la causa perché è licenziamento illegittimo, non contento faccio la causa perché sarà il magistrato più o meno equilibrato a decidere quanto è la mia indennità. Questo è il mondo della magistratura non politicizzata ideologica della nostra Corte Costituzionale, dei nostri magistrati eccetera, non politicizzata. Allora qua ci stiamo lamentando per il nuovo vicepresidente del CSM, io qua mi lamenterei per una magistratura, ma chi è che lo scrive oggi? Lo scrive in maniera forse Bordini, lo scrive che ha abolito di fatto le leggi elettorali, ha abolito i premi di maggioranza, ha abolito i Jobs Act, ha abolito i contributi di solidarietà sulle pensioni, cioè la magistratura che più che tutelare la Costituzione, come dice mi sembra oggi qualcuno, è iper conservatrice. Il Renziario Ermini diventa il capo dei giudici, titolo alla verità, non è il capo dei giudici, ovviamente perché i giudici non hanno un capo e tra l'altro se vogliamo essere proprio precisi, all'amici della verità, è il Presidente della Repubblica, Mattarella è il Presidente del CSM. Mentre invece è molto interessante Mario Giordano che oggi in un lungo pezzo ci spiega perché il Parlamento boicotta la legittima difesa, che era una delle grandi battaglie del centro-destra. Vediamo se mi sono dimenticato qualche cosa, ah no certo che mi sono dimenticato qualche cosa, da segnalare oggi la bellissima intervista di Toti, mi sembra su Corriere della Sera, in cui ci spiega quanto sia vuoto il decreto ponte, che contiene al suo interno zero, se non l'obbligo a che non sia l'autostrada, le autostrade, le insopportabili autostrade ma anche tutti gli altri concessionari a ricostruire il ponte, il che vuol dire, dice Toti, va bene non li fate costruire le autostrade per una specie di ripicca incredibile, perché è incredibile? Perché prima gliela fate costruire, prima li fate pagare e poi li mandate a quel paese, nel senso che gli togliete la concessione perché dite o fate tutte le cause di esercimento d'anni, ma in questa maniera dice dovremmo fare una gara europea, perché solo le autostrade potevano farlo in house, la gara europea vorrà dire molti mesi, il commissario ha mille paletti quindi non decidirà nulla e quello che dice straordinariamente secondo me Toti, sono passati già un mese, da 14 settembre un mese e mezzo, non abbiamo ancora fatto nulla, il decreto non è stato ancora pubblicato e vedrete che ancora per i prossimi anni ci dovremo piangere e dolere di un ponte che non solo è crollato, non solo dei suoi 43 morti, ma di una città che come notava il secolo XIX e 13 mila aziende soffriranno il casino di questa tragedia che deriva certamente da un concessionario negligente, ma oggi probabilmente anche da una politica che vuole fare soltanto annunci, come dice Toti, invece che mettere a posto le cose. Bene, visto di oggi alla zuppa, troppo tempo a Genova bloccata, Francoise buongiorno, Michele buongiorno, Pierpaolo il tempo passa ed il punto non arriverà altro che centri all'impiego, c'ha perfettamente regione, Claudia Genova morta, Lino dice tante cose ha fatto il paese dei balocchi e io vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani e oggi sul sito tante altre notizie, il sito Nicola Porro.it, ciao!